Ecco, adesso dovresti farmi la cortesia di immaginare che questo video sia iniziato, anziché con la mia brutta voce, con la sigla di Beautiful. Ebbene sì, proprio quella telenovela che negli anni 90 mia mamma ricordo che seguiva puntualmente ogni pomeriggio davanti alla tv e io mi chiedevo come si facesse a credere a un polpettone del genere, peraltro estremamente ripetitivo. Ebbene l'ho scoperto proprio pochi giorni fa, perché è successo un qualcosa che se da un lato ho trovato assolutamente incredibile, dall'altro mi ha fatto arrabbiare, ma mi ha fatto arrabbiare, così tanto che non vedo l'ora di dirlo anche a te. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Ma se da un lato, come ti ho appena detto, non vedo l'ora di renderti partecipe di questo immenso circo che ha messo su mamma Microsoft e anche tu devo dire che ci metti la tua buona dose di masochismo e infatti stai guardando questo video, dall'altro lato non posso prescindere dai nostri doveri fondamentali che ci impongono, prima di iniziare un video, di eseguire con tutti i crismi il nostro consueto rituale apotropaico, al fine di placare le potenziali ere delle divinità del tuo. Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va! Ed essendo appunto in tema di telenovela, cominciamo con un bellissimo riassunto delle puntate precedenti. Che cosa è successo? Che in un video che è uscito giovedì scorso ti ho parlato di una decisione storica di Microsoft che da prima aveva annunciato che il TPM 2.0 era un requisito assolutamente irrinunciabile se volevi installare Windows 11, cosa ribadita da diverse testate di settore come puoi vedere successivamente e precisamente. L'11 di dicembre ci diceva che aveva ripensato a tutto quanto l'aspetto dell'hardware imprescindibile che tutto sommato potevamo anche installarlo su hardware non supportati. Anche questa una notizia che veniva rimbalzata da diverse testate esattamente lo stesso giorno. E quindi il 12 dicembre io tutto infiocchettato uscivo con il mio video in cui ti dicevo esattamente questo. In caso ho voluto chiedere direttamente a mamma Microsoft come stavano le cose e ho trovato quest'articolo qua che dice che l'installazione di Windows 11 su dispositivi che non soddisfano i requisiti minimi di sistema è ora ufficialmente possibile. Naturalmente dopo la lettura dell'articolo che ti ho appena mostrato sulla pagina ufficiale di Microsoft ero in pieno trip e mi è punta vaghezza di andare a verificare se avevano scritto qualcosa di nuovo anche sui metodi di installazione di Windows 11. Ebbene sì lo hanno fatto e lo hanno fatto mettendolo bello in grassetto ed evidenziato. Oh insomma tutto bene quello che finisce bene alle 7 del mattino puntuale come un orologio svizzero è uscito il mio video e quindi tutti coloro i quali avevano dei pc che non avevano i requisiti minimi per l'installazione di Windows 11 potevano finalmente farlo anche con la benedizione di Microsoft. Se non fosse che nello stesso giorno alle 9 e 30 e cioè due ore e 30 minuti dopo che era uscito il mio video è successo questo. sulla stessa pagina su cui avevano appena scritto che tutto sommato anche se non hai i requisiti fondamentali volemose bene puoi installare Windows 11 non fa niente se sei stato cattivo Babbo Natale viene lo stesso pure se non c'è il TPM 2.0 ma c'è il TPM 1.2 puoi installare un po' quello che ti pare ci vengono a scrivere quello che ti sto per far vedere. Importante aggiornato il 12 dicembre 2024. Se hai installato Windows 11 in un dispositivo che non soddisfa Windows 11 requisiti di sistema Microsoft consiglia di ripristinare immediatamente Windows 10. Ora a parte che anziché usare il traduttore potevi almeno spellarti le ditine sante e scrivercelo in un italiano corretto ma ti sembra normale che solamente il giorno prima mi hai autorizzato a fare una cosa e il giorno dopo di nuovo cambi idea e torni indietro. Ora parliamoci chiaro da quando è uscito Windows 11 abbiamo sempre trovato il modo per farlo girare e installarlo su macchine che non avevano i requisiti minimi purché avessero un minimo di hardware in grado di farlo girare dignitosamente a partire da Rufus a finire a tutti quanti i trick e track che ti ho mostrato nel tempo su questo canale. Ma permettimi per un utente è importante avere la benedizione dello zio Bill nel momento in cui vuole installare Windows 11 su una macchina non supportata ma con il supporto di mamma Microsoft. Perché questo? Perché noi ti aiutiamo nel tuo tentativo di defragmentazione dei sistemi operativi cerchiamo di abbandonare in massa Windows 10 per un unico motivo ovvero di avere la possibilità di ricevere finalmente degli aggiornamenti decenti per Windows 11 una volta che ti avremo sgravato della metà del lavoro che è anche il motivo per cui io ho sempre incentivato il passaggio a Windows 11 stesso che è un ottimo sistema operativo. Ma torniamo indietro se tu hai installato Windows 11 non ti sei trovato bene e vuoi seguire il consiglio di Microsoft e tornare indietro come si fa? Io te lo faccio vedere subito. E per mostrartelo per l'occasione ho rispolverato il vecchio cesso a pedali che avevo creato per il video precedente che tutto sommato nonostante che non avesse i requisiti e che avesse un hardware davvero ma davvero ma davvero scadente tutto sommato non si comporta malaccio. Ma comunque se hai installato Windows 11 come ho fatto io su questa macchina e sei pentito e vuoi tornare a Windows 10 senza perdere i vari programmi installati e tutti quanti i tuoi file quello che devi fare è davvero semplicissimo. E nella fattispecie ti devi portare qui in basso sul tasto start. Devi aprire le impostazioni tramite questa icona qui e una volta aperte ti dovrai portare su questa voce quella che si chiama sistema. Scenderai un pochino più in basso fino ad individuare la voce che si chiama ripristino. Cliccaci sopra, mettiamo a tutto schermo e ti mostro che vedrai al suo interno auspicabilmente a mamma Microsoft piacendo questa icona che si chiama indietro che dice che se questa versione non funziona o non ti piace oppure vuoi cambiare perché ti piacciono di più gli spondi di Windows 10 puoi farlo tramite questo pulsante indietro. Una volta premuto il pulsante partirà l'operazione di ripristino di Windows 10 che eliminerà Windows 11 e reinstallerà Windows 10. Tutto quello che devi fare è seguire la procedura guidata e procedere con la disinstallazione del sistema operativo. Eccolo qui, torna a Windows 10. Fatto questo clic dovrai semplicemente aspettare il termine dell'operazione e vedrai che il tuo adorato Windows 10 tornerà a farti compagnia. E vabbè, voler bene allo zio Bill significa essere magnanimi e sapergli perdonare anche questi piccoli peccatucci veniali, anche se sono stato il primo ad infuriarmi quando è successa questa cosa. Ma perché lo chiami lo zio Bill? Adesso è Satia Nadella la D di Microsoft. Ma vuoi mettere lo zio Bill con Satia Nadella? Per me lo zio Bill è sempre il capo di Microsoft e poi su questa community lo zio Bill è lo zio Bill. E guai a chi ce lo tocca. Andiamo avanti e a proposito di community passiamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno a Daniele, Diego Galli, Giampaolo Doga, Paolo Zunino, Massimiliano Erario, Massimiliano Santinelli, Luca Tentoni, Aldo Aldo, Lino Parisi, Augusto Bonanni ed Euridamante HNH Inside. Ma perché mi fai sta cosa? Vabbè comunque a tutti voi il benvenuti a bordo oppure il ben rimasti a bordo perché vi siete abbonati oppure avete rinnovato il vostro abbonamento alla community dei gentiluomini. Ma se pensi che abbiamo finito sei ben lontano dalla verità perché adesso ringraziamo anche Alessio, Stefano Moroni, Claudio Bassi, Thomas 2915 e Offenbach Leschat alias il gatto mistico alias misti per gli amici che hanno voluto contribuire con i loro generosissimi supergrazie alla vita e al sostegno di questa community. E ti pare però che manca un altro ringraziamento? Ovviamente quello destinato proprio a te che hai guardato questo video e hai fatto compagnia nel corso di questi sgrammaticatissimi minuti. E detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento. Alla prossima!